su Radio Roma Futura, allo studio di Radio Roma Futura.it per Club de Football proprio per ricordare all'inizio trasmissione che Federico Pappasozzi è stato in collegamento con noi telefonicamente e sta preparando la grande puntata di domani sera, torna con dominio Roma Futura alle 20.23 credo, intorno giù di lì, adesso non ricordo esattamente l'orario domani alle 4.30 però c'è Talk Music con Davide Di Carlo non ve la perdete, l'altro conduttore Davide Moroni era poco frebbicitante visto questi cambi di clima che subiamo ormai qui nel Mediterraneo e niente, sono tornato io a condurre questa fantastica trasmissione ringrazio tutti i nostri ascoltatori e chi ha interagito con noi tramite i social network ricordando insomma che quello che è accaduto, il mio particolare insomma come conduttore della trasmissione Radio Barza, insomma abbiamo toccato anche qui in Club de Football notizie di mercato che hanno riguardato il Barza ma che riguarda il Barza è stato un po' oggetto di interesse globale in Europa per i propri spostamenti per i due spostamenti di Dani Alves che è andato sembrerebbe andare alla Juventus ma anzi sicuramente andrà alla Juventus ricordiamo è andato via a zero proprio perché nella clausola nel contratto firmato lo scorso anno, nei tre anni che aveva firmato con il Barza c'era questa clausola che diceva che se entro il giugno 2016 lui avrebbe trovato un'altra squadra sarebbero andato a zero insomma ricordiamo da che Alves ha guadagnato quest'anno 8 milioni di euro compreso i bonus, ne avrebbe guadagnati 6 se rimaneva al Barza l'anno diciamo che sta per entrare calcisticamente e poi 4 la Juventus si parla di almeno oppure al Paris Saint Germain ma sembra la Juventus almeno di un contratto di 5 milioni di euro quindi grazie caro Dani Alves un abbraccio perché sei stato uno dei più grandi giocatori terzini-destri che ha avuto il Barza anche come titoli in questi tuoi otto anni l'altro giocatore che oggi è partito è stato Mark Bartra per 8 milioni di euro si è accasato al Borussia Dortmund se ne è andato più che per una questione economica proprio per una questione che lui voleva giocare lui si dice che non aveva più diciamo confidenza non aveva più diciamo la stima sportiva ecco per questo canterano che a mio personalissimo parere non è esploso io ne abbiamo discusso con Andrea Fabiani e con Sergio Leonetti e con Alberto Polinori mercoledì in Radio Barza Italia Mark Bartra in questi due anni di Luiz Enrique è stato l'unico canterano diciamo della prima squadra che non ha migliorato neanche la sua potenza fisica la cosa che Luiz Enrique e i suoi collaboratori del corpo tecnico hanno portato è stato anche un aumento del visibile della forza fisica in particolar modo per difensori e centrocampisti emblematico è Sergio Roberto ma anche in parte Raffigna Raffigna non l'abbiamo visto del tutto perché è stato per sei mesi fermo quando si è rotto i legamenti con il fallaccio di Nainggolan proprio all'Olimpico a settembre nella prima partita di Champions del gruppo questo forse è stato una pecca perché non la fa un giocatore non so per quale motivo anche magari per poco applicazione in un certo carichi di lavoro che faceva il mister chiedeva il mister quindi poi io che cosa dire non è un fenomeno se è voluto andare via tanti saluti se rimani sempre nei nostri cuori arrivederci grazie Pizzetta e Travezini arrivederci dobbiamo guardare il passato al futuro per quanto riguarda tutto quello che c'è invece beh questa discussione su Pjanic è molto interessante e Pjanic è un giocatore che a mio modesto parere sarebbe perfetto per il Barza sarebbe veramente perfetto per il gioco del Barza è un giocatore che poi in questi tre anni diciamo che è stato alla Roma ha migliorato tantissimo quest'anno secondo me in questi sei e mezzo anno con Spalletti ha dato dimostrazione anche di saper fare cose che prima con Garzia non è riuscito a fare magari anche nel recupero del pallone magari anche nell'assist è stato uno dei migliori assist man della Serie A io credo che può essere un buon acquisto sapendo che forse siamo tanti al centrocampo però ci siamo lamentati al Barza ci sono tanti lamentati quest'anno i tifosi addetti ai lavori che la coperta era talmente corta che forse è stato quello uno dei problemi del calo fisico e mentale in quel maledetto mese di aprile che li ha fatti uscire dalla Champions ma anche insomma perché hanno giocato sempre gli stessi e questo significherebbe insomma avere un cambio di grandissima rilievo di grandissima qualità in particolare secondo me un cambio per preservare appunto questo monumento dell'umanità che è Don Andres in Iesta quindi staremo a vedere la Roma ha l'esigenza di vendere perché di vendere Pjanic perché ricordiamo come discutiamo con Matteo Pirosante e con Federico Pampasozio la Roma rischia di incappare nella sanzione per il fair play finanziario della UEFA la seconda in due anni sarebbe recidiva quindi una pesantissima sanzione e quindi deve ripagare ripianare entro il 30 giugno un ammanco di 30 milioni di euro la clausola recissoria per l'estero perché in Italia non è valida non è regolamentata dalla Lega Calcio italiana la clausola recissoria è di 38 milioni il giocatore Vice Cadenza ha il contratto fino al 2018 anche questo è un sintomo di che appunto lui c'è possibilità che può partire quindi c'è stato si dice giravoce a Roma un abboccamento da parte della dirigenza Giallorossi Sabatini a un uomo insomma un tifoso romani uno che ha legami con la dirigenza un romanista doc che ha un amico di Luiz Seriche e insomma Lucia ha sempre avuto pallino per Pjanic l'ha allenato quell'anno che lui è arrivato da Lione a Roma lo voleva l'anno che è venuto che è arrivato sul banchio sulla panchina blaugrana e quindi io credo credo anche alle notizie che ho che Lucio stia spingendo detto questo c'è un problema con Denis Suarez non lo si può nascondere ieri Robert Fernandez ha fatto questa conferenza stampa ha detto determinate cose che dal primo luglio ritorna pagando circa 3 milioni di euro Denis Suarez al Barca c'è notizie in particolare di Porta Sporta che non è proprio così il Barca non riesce a trovare un accordo con i procuratori del giocatore anche che loro dicono che il sogno di Denis Suarez è giocare nel FC Barcelona il rischio è che questo giocatore poi si stufi nell'aspettare determinate cose e quindi può accordarsi con altri e addirittura il Barca l'unica cosa che avrebbe dalla parte sua è diciamo mettere nello stesso piatto la stessa offerta della squadra che appunto del club che fa la richiesta al Villareal o superiore e avrebbe un tot di tempo per 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 fare per fare questo e sono esattamente tre giorni per ugualare cioè per ugualare la la stessa offerta dell'altra squadra quindi qui comincia a essere anche questo rebus su Denis Suarez staremo staremo a vedere e sta di fatto che però il Barca cerca fortemente un difensore G c'è un'altra notizia che addirittura c'è stato già l'accordo per Marchignos è stato stipulato addirittura a Milano si parla di oltre 40 milioni di euro per il difensore brasiliano del del Paris Saint Germain ex Roma però il Paris Saint Germain sta aspettando di capire se per l'ufficializzazione intanto si aspetta sempre insomma si aspetta l'inizio delle varie competizioni delle nazionali e poi e poi aspetta anche di capire chi sarà l'allenatore se rimane a blanca o prenderanno un nuovo allenatore un nuovo allenatore per il Saint Germain che alcuni giornali in particolare Spagna in particolare marca danno per fuori blanche per la scelta che va tra Unami Emery Unami Emery e il ciolo Simeone bene 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 andiamo ormai ai saluti finali anche perché ripeto oggi in piesa comincia la Coppa America Centenario la Coppa America Centenario che comincia con i padroni di casa il girone A che scendono in campo oggi alle ore tre alle ore tre di italiane e saranno appunto Stati Uniti e Stati Uniti e la 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 che giocheranno appunto oggi questa notte eh al Levis Stadium di Santa Clara quindi in California eh e poi domani ormai oggi più che altro sabato alle ventitré ora italiana Costa Rica Paraguay Costa Rica Paraguay questa volta si gioca ad Orlando quindi al Citrus Bowl quindi si va a in Florida eh a Chicago invece eh no scusate eh poi il che cosa ci stavo già vedendo sempre lo stesso gruppo invece che cosa che cosa ci ci dà eh il calendario di questa di questa di questa competizione il calendario di questa di questa competizione ci offre andiamolo a vedere eccolo qui eccolo ci offre che ecco allora il 5 di eh di giugno a luna e mezza di notte avremo Haiti Peru e alle 4 esordisce il Brasile contro l'Equador quindi stiamo parlando del girone B girone B con Haiti Peru che si giocherà al Central Link Field di Seattle e poi a Pasadena quindi si torna in California si passa da da Seattle in eh non sta Seattle ma sta ricordando sta Seattle è lo stato in Washington quindi sta sta su sta al confine con Canada sul Pacifico eh si torna a Pasadena in California per Brasile Ecuador a Rose Bowl eh questo abbiamo detto il 5 il sempre il 5 però alle ore 23 italiane ci abbiamo Jamaica Venezuela Jamaica Venezuela che riguarda il gruppo C Jamaica Venezuela si gioca a Chicago al Soldier Field o poi poi ci abbiamo il 6 alle ore le 2 di notte Messico Uruguay quindi il Charruas lo Charruas esordiscono per il sempre girone C e ci gioca a Glendale allo stadio dell'University of Phoenix Stadium attenzione in Arizona in Arizona oh questo abbiamo detto il Messico Uruguay il 6 alle 2 il 6 che il giorno 6 che è dove sta il giorno 6 che è lunedì lunedì eh non vi sbagliate il 7 invece che è martedì all'ora luna di notte ci abbiamo Panama Bolivia Panama Bolivia riguarda il girone B e si gioca ad Orlando sempre al Cisbol ecco Panama Bolivia quindi in Florida eh esordisce l'Argentina il 7 martedì 7 di giugno alle ore 4 di notte in un big match contro il Cile sempre per il girone D e si gioca Santa Clara all'East Stadium cioè di nuovo in California quindi mi raccomando California Santa Clara eh eh bene poi l'otto 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 ricominciano ricominciano con gli Stati Uniti Costa Rica poi Colombia Paraguay e Giudini bene 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 gruppo A gruppo B gruppo C gruppo D gruppo A Paraguay Colombia Stati Uniti Costa Rica gruppo B Ecuador Peru Brasile Haiti Gruppo C Venezuela Uruguay Giamaica Messico gruppo D Argentina Bolivia Cile Panama questa è la Coppa America Centenario c'è un'altra settimana di tempo per conoscere invece gli europei in Francia noi quindi ce li ce li ce li ce ne parliamo la settimana prossima bene io ormai sono arrivato a mezzanotte e 49 Maximo Organte via una buona notte a tutti vi lasciamo insomma con le con le nostre con la nostra la nostra sigla di club football io ringrazio ancora Federico Pampasozio ringrazio ancora Marco Misseri Matteo Pellosante chi ha interagito con noi nei social network un saluto